Ma Trump era davvero pacifista, spoiler letteralmente per niente. Diciamo che con la vittoria e il ritorno dell'omino arancione, il cringiometro sta segnando livelli massimi. Con questo video vorrei smentire quella credenza secondo cui, durante la sua precedente amministrazione, non ci sono state guerre e non ce ne saranno nemmeno in futuro. E partiamo con la questione droni. Nonostante già l'amministrazione Obama cercò di sfruttare sempre di più l'uso di droni per attaccare obiettivi in contesti o zone di guerra come Yemen, Siria, Iraq e anche Afghanistan. Con l'amministrazione Trump, a partire dal 2017, gli attacchi con i droni aumenteranno. Per dare un po' l'idea, nei primi due anni di amministrazione Trump sono stati effettuati più di 176 attacchi nello Yemen, a differenza invece dell'amministrazione Obama dove nell'arco di 8 anni sono stati effettuati più di 154 attacchi. Yemen che già dal 2015 era travolto da una guerra civile che si trattava più di una guerra per procura ancora tuttora tra Iran e Arabia Saudita, l'Iran che ancora oggi sostiene i ribelli Houthi e dall'altra le forze della coalizione preseduta da Stati Uniti e Arabia Saudita che più volte non solo hanno attaccato obiettivi dei ribelli Houthi ma anche molti obiettivi civili provocando diciamo una crisi umanitaria senza precedenti, con carestie e purtroppo anche epidemie. Interessante notare come Obama cercò di prendere alcune misure per dare maggiore trasparenza e per evitare che l'opinione pubblica potesse condannare azioni come gli attacchi coi droni che a volte facevano vittime civili. Di conseguenza Obama cercò non solo di migliorare il coordinamento tra la CIA e i servizi segreti militari anche per valutare realmente il livello di pericolosità di alcuni bersagli ma cercò anche di evitare che il fuoco incrociato potesse colpire anche civili al di fuori di zone di guerra. Per questo ordinò alla CIA di creare una lista dove si cercavano di registrare tutte le principali vittime civili al di fuori di zone di guerra. Con Trump tutte queste misure saranno abolite perché secondo lui considerate superfle. Di conseguenza è un modo un po' implicito per dire che tanto miliziani e civili sono quasi la stessa cosa quindi colpiamo a prescindere chiunque rispecchia il pensiero medio di qualsiasi americano ultraconservatore reazionario e islamofobo che vede tutti i musulmani come dei terroristi. Quindi ha anche dato il via libera alla CIA di poter intraprendere azioni di qualsiasi tipo sia in Africa che in Medio Oriente senza dover rendere conto a nessuno. Nel complesso infatti sono stati eseguiti più di 2200 attacchi nei primi due anni di Trump rispetto ai 1800 di Obama nell'arco di otto anni. Ma ora passiamo alla questione Israele-Palestina. Già all'epoca molto cara a Trump e all'amministrazione repubblicana ovvero totale sostegno a Netanyahu e alla fazione ultraconservatrice e reazionaria. Non solo ricordiamo lo spostamento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme ma ricordiamo anche come lo stesso Trump cercò di proporre un piano di pace. Lo definì l'accordo del secolo. Essenzialmente prevedeva il riconoscimento sulla carta di due stati. Uno può pensare beh, già un primo tentativo di voler cercare di trovare una soluzione. Il problema è che questo accordo era totalmente sbilanciato, totalmente a favore di Netanyahu. Non solo Gerusalemme come capitale ufficiale dello Stato di Israele ma sempre Israele avrebbe avuto la possibilità di annettere ufficialmente tutte le colonie in Cisgiordania che ancora oggi sono considerate illegali dalla comunità internazionale. Quindi sì, palesemente è un accordo equilibrato. Ah, ovviamente anche il nuovo Stato palestinese che ne sarebbe uscito smembrato, letteralmente, avrebbe dovuto rinunciare e ritirare tutte le principali forze di difesa. Quindi ci sarebbe stata una smilitarizzazione. Ovviamente ciò provocherà forti condanne da parte dell'autorità nazionale palestinese della West Bank. E adesso la domanda sorge quasi spontanea. Come si evolverà la situazione già con l'immobilismo di Biden, col suo promettere una soluzione pacifica dopo che continuò a vendere armi a Israele e dopo 40.000 morti e più di un milione di sfollati? La situazione con Trump che adesso dice, come più volte ha detto, Israele non sta facendo abbastanza, sta facendo troppo poco, immaginate? Eh sì, non sarà una stagione errosia, non lo sarà per niente. Sicuramente la cerchia fondamentalista e ultra nazionalista di destra di Netanyahu farà robe, cose abbastanza... Ma rimaniamo sempre in Medio Oriente parlando della questione Siria-Iran. E ricordiamo sempre là, nonostante la promessa all'epoca di mantenere un approccio isolazionista, non interventista, già smentito con la questione droni, anche in Siria, diciamo, non manterrà questa promessa dove più di due volte, nel 2017-2018, dopo gli attacchi chimici, bombarderà alcune postazioni nel paese. Ecco, l'Iran, ricordiamo, dopo il ritiro dell'accordo sul nucleare, che secondo la fazione politica di Trump, svantaggiava troppo gli Stati Uniti. Ricordiamo, quest'accordo in origine voluto da Obama, serviva anche a ridurre le tensioni tra i due paesi. In un certo senso serviva ad arrestare il programma sul nucleare iraniano, a patto che gli Stati Uniti annullassero alcune sanzioni per far riprendere così l'economia iraniana. Naturalmente questo processo e questo accordo è stato anche sostenuto da vari partner europei. All'epoca Iran guidato dal fronte moderato rappresentato dall'allora presidente Hassan Rouhani. Con Trump questo accordo sarà letteralmente violato e l'obiettivo sarà adottare una politica estera sempre più aggressiva e imperialista, che ha l'obiettivo di portare ad un collasso politico ed economico del regime, ridurre la sua sfera di influenza nella regione e sicuramente introdurre ancora più sanzioni. Conseguenze? Beh, il regime alla fine non crolla e porta avanti il suo programma nucleare, aumentando la produzione di uranio arricchito. Per ovvi ragioni assisteremo ad un indebolimento dello schieramento moderato rappresentato da Rouhani e non a caso crescerà in Iran la fazione ultraconservatrice e reazionaria, rappresentata non solo dalla guida suprema Ali Khamenei, ma anche da alcuni esponenti che continuavano comunque a controllare il potere giudiziario e anche i principali media di Stato. Tutto questo causato dalla sempre più aggressiva politica imperialista americana e non è un caso se poi nel 2021 vincerà proprio il candidato ultraconservatore reazionario Ebrahim Raisi. La Repubblica Islamica continuerà comunque a rafforzare la propria sfera di influenza in zone come Iraq, Siria e anche Libano, nonostante i tentativi di Trump di rafforzare i rapporti con gli storici nemici iraniani come l'Arabia Saudita. E non a caso infatti l'Iran continuava comunque a sostenere il regime di Assad, a rafforzare i rapporti con Hezbollah e i ribelli Houthi Yemen in funzione antisaudita e soprattutto anche influenzare la politica interna irachena. Ricordiamo il sostegno che le forze iraniane hanno dato al governo uscita iracheno nel sedare e nel comunque stroncare le rivolte in Iraq del 2019. E alla fine, come noi già ben sappiamo, il momento di più alta tensione lo vedremo con l'uccisione del generale e del capo delle guardie rivoluzionari Qasim Soleimani da parte proprio di Trump. Un vero e proprio atto di guerra che poteva sfociare in una guerra su più larga scala. E adesso ci spostiamo in Sud America e più in particolare nei Caraibi. I rapporti con Venezuela e Cuba erano già estremamente tesi. Ricordiamo Venezuela già colpito da una crisi economica e finanziaria della Madonna causata da un mix di cose, sicuramente le sanzioni americane ma anche le politiche economiche di Maduro che basava lo sviluppo economico solo ed esclusivamente sull'esportazione di petrolio. Sempre Maduro che poi creò e rafforzò un sistema autoritario. Per questo non a caso ha tradito i principi e i valori politici del suo predecessore, ovvero Chavez. Questo mix di sanzioni economiche e politiche scellerate diciamo porterà la popolazione allo stremo, ricordiamo l'inflazione e soprattutto milioni di persone che cercavano di fuggire. In questo contesto Trump, che già vedeva il Venezuela come un nemico storico americano ricordiamo quando il Venezuela cercò di uscire dalla sfera di influenza statunitense ad inizi anni 2000, ricordiamo Venezuela primo paese produttore di petrolio al mondo chissà perché si trova in contrasto con USA, sostene non solo l'autoproclamato presidente del Venezuela, Juan Guaidó, che ricordiamo cringe allo stesso livello di Maduro e valutò anche un intervento militare in Venezuela, stile esportazione della democrazia. Un'azione che ha proposto ad alcuni suoi funzionari vicini all'amministrazione che hanno considerato una mossa troppo estrema e anche ad alcuni leader sudamericani come l'allora presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Azione estrema perché non avrebbe ricevuto alcun supporto da parte dei paesi circostanti e nemmeno da parte del Mercosur, la principale organizzazione che gestisce il mercato comune dell'America meridionale. Sostenendo invece la diplomazia e il dialogo, perché pensiamoci qualsiasi intervento americano nel corso degli anni storicamente ha sempre rafforzato il regime invece di delegittimarlo. Ovviamente i vari servizi segreti continuarono a sviluppare nuovi modi per destabilizzare il paese. Ad esempio, nel 2019 un attacco hacker cercò di disabilitare il sistema di pagamento che gestiva gli stipendi dei singoli soldati. Alla fine il regime di Maduro rimane comunque al potere. Stesso approccio è stato anche adottato per Cuba. Dopo che Trump cercò di interrompere quella fase di disgelo promossa dalla precedente amministrazione cercò non solo di rafforzare le sanzioni economiche per isolare sempre più Cuba portando ad un possibile collasso economico ma cercò anche di limitare fortemente la circolazione di beni e persone. Cercò di rafforzare il rapporto con quella parte di elettorato in Florida composto da esuli cubani, fortemente anticomunisti e ultraconservatori che hanno già votato per il partito repubblicano. Trump cercò di eliminare alcuni limiti e alcune deroghe già applicate all'Helms-Burton Act una legge che permetteva ai singoli cittadini americani di fare causa presso tribunali locali a società straniere come quelle europee che operavano all'interno di proprietà confiscate agli americani durante la rivoluzione degli anni Sessanta. Rafforzando questa legge Trump minaccia non solo gli accordi commerciali stipulati tra alcuni stati europei e Cuba ma vuole portare ad un maggiore collasso economico di Cuba in un certo senso impedendo all'isola di attrarre investimenti stranieri. E poi già sappiamo molto bene la questione Corea del Nord non credo sia necessario dire molto sì, sicuramente c'erano tentativi di diplomazia ma non hanno dato grandissimi risultati le tensioni tra i due rimanevano ancora altissime e poi non dimentichiamo la questione kurdi-stan siriano dove Trump letteralmente abbandonò i kurdi coloro che hanno contribuito alla lotta contro lo stato islamico li ha letteralmente abbandonati di fronte alle mire di Erdogan e per concludere lo ribadiamo Trump ha sempre comunque adottato questa politica estra-intraventista come tutti gli altri politici americani in certi casi creano maggiori stabilità politica in certe regioni o in certi paesi e quindi no, la roba dell'isolazionismo non sta né in cielo né in terra e nemmeno quella del pacifismo ha? Grazie a tutti.